Il questore di Imperia, Cesare Capocasa, poco più di un mese dall'entrata in vigore della legge sul cosiddetto cyberbullismo, ha emesso il primo ammonimento a carico di un ragazzino imperiese di 15 anni. Il giovane aveva infatti minacciato di divulgare su internet una foto intima della fidanzatina che lo aveva lasciato. La giovane aveva raccontato la storia ai genitori che si erano quindi rivolti alla polizia postale. È scattata così un'indagine che ha visto in prima linea anche la sezione anticrimine della questura. Ai nostri microfoni il questore Cesare Capocasa, il dirigente della divisione anticrimine Pierpaolo Fanzone e la dirigente della polizia postale di Genova Tiziana Pagnozzi. Sentiamo. La legge si muove in questa direzione, ha una valenza soprattutto educativa, preventiva più che repressiva e l'ammonimento è la misura più efficace di questa normativa prevista dall'articolo 7. È un invito in effetti al minore di cambiare condotta perché sta ponendo in essere in rete una condotta che ha un rilievo penale. Quindi la finalità è quella di evitare il ricorso all'azione penale e rendere dotto il minore che sta ponendo in essere una condotta penalmente rilevante. Sicuramente di consapevolezza del disvalore della propria azione, motivo per il quale noi riteniamo che questo ammonimento abbia avuto l'effetto, diciamo così voluto, dal legislatore, cioè rendere consapevole il minore di queste condotte che non sono ammissibili. C'era questa inconsapevolezza di comunque arreccare un danno, un danno serio ad una ragazza. Il quadro Ligure direi che è comunque tranquillizzante. Abbiamo trovato dei ragazzi molto preparati che conoscono il fenomeno. È chiaro che poi qualche vittima c'è sempre e noi consigliamo sempre a questi ragazzi vittime del bullismo e del cyberbullismo di uscire dall'isolamento, di parlarne meglio con persone adulte, con i genitori, con gli insegnanti o con un'amica. La paura è quella di denunciare e soprattutto spesso questi ragazzi hanno un po' di sfiducia, pensano che nessuno possa far nulla per risolvere questo problema e assolutamente non è vero. Il procuratore capo Grazia Pradella ha disposto all'autopsia per Adriano Muratorio, l'operaio morto ieri a Borgomare in un infortunio sul lavoro. L'esame microscopico servirà per chiarire meglio la dinamica dei fatti. Adriano Muratorio, 59 anni, originario del Dianese, ma da tempo residente con la famiglia Accesio, dove era conosciuto e stimato, lascia i figli Rosario e Antonello e la compagna Maria. Il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Ventimiglia ha eseguito due arresti a Camporosso. I militari hanno stati chiamati da dei cittadini che avevano visto un uomo e una donna che dopo aver infranto il vetro anteriore di un furgoncino con targa francese stavano asportando nel materiale e mettendolo a bordo della loro auto. Sono quindi finiti in manette un senegalese 38 anni in Italia da diversi anni, già gravato da precedenti penali, e una 54enne milanese, entrambi domiciliati in Francia. La Guardia di Finanza ha rimpatriato 19 testugini di specie protette. I poveri animali erano stati sequestrati in due diverse occasioni nel maggio scorso nel porto di Genova e sono appunto intervenute le fiamme gialle genovesi. Sentiamo. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova in servizio nel porto cittadino hanno proceduto al rimpatrio di 19 testugini di terra della specie testudo greca protette dalla Convenzione di Washington Cite, sequestrate in due diverse operazioni nello scorso mese di maggio. Nel corso di questo periodo, nell'emore della definizione del relativo procedimento giudiziario, le testugini sono state custodite da un centro EMPAN della provincia di Genova, anche a causa delle pessime condizioni di salute in cui versavano al momento del sequestro, tanto che alcune di loro sono sopravvissute alle condizioni di viaggio e di detenzione negli autoveicoli in cui erano trasportate. Le testugini sequestrate sono state imbarcate sul traghetto diretto in Tunisia, paese da cui provenivano e affidate alle cure del comandante della nave. Il risultato è frutto della paziente opera di collegamento e cooperazione tra la Guardia di Finanza e le autorità tunisine e si inquadra nell'ambito delle attività svolte dal corpo a seguito dell'attribuzione delle competenze CITES in campo doganale. Tutte le operazioni concernente sia il sequestro che il rimpatrio delle testugini sono state effettuate in collaborazione con i finanzieri della locale agenzia delle dogane di Genova e con il supporto tecnico del servizio CITES della sezione forestale dei carabinieri, competente per le attività in materia svolte al di fuori degli spazi doganali. Era appena stata riparata da dei privati e ora è di nuovo fuori uso. Sembra senza fine la storia dell'altalena per i bambini portatori di handicap del parco urbano di Imperia. Vediamo. Era stata riparata da privati legati all'associazione La Giraffa Rotelle solo pochi giorni fa e ora è nuovamente stata rotta e messa quindi fuori uso. Sembra non avere fine la vicenda dell'altalena per bambini portatori di handicap che era stata installata sempre da privati. Un gruppo di ragazzi che non avrebbe nemmeno dovuto utilizzare il gioco ha provocato la rottura di un elastico e questa volta sono intervenuti anche i carabinieri che stanno effettuando accertamenti. L'individuazione dei responsabili è però resa complicata dalla mancanza nella zona di telecamere di videosorveglianza funzionanti. A denunciare la caduta è stata la stessa associazione La Giraffa Rotelle i cui rappresentanti hanno espresso profonda ammarezza per l'inciviltà di alcuni giovani e dei genitori che non li controllano. Per fronteggiare l'emergenza idrica che sta interessando anche Imperia il sindaco Carlo Capacci invita nuovamente tutta la cittadinanza a un uso consapevole e moderato dell'acqua potabile al fine di evitare sprechi ma anche per dare un segnale concreto alla popolazione il comune, l'amministrazione ha deciso di chiudere la fontana di Piazza Dante. E prosegue la conta dei danni provocati invece dalla grandina in provincia di Imperia in alcune zone si parla addirittura del 70% di raccolti perduti e soprattutto olive e uva. Per questo la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, chiede che venga concesso lo stato di calamità. La violenta grandinata del 24 luglio scorso ha arrecato ingenti danni alle aziende agricole dell'entroterra imperiese. In particolare le segnalazioni di situazioni più gravi giungono da Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Chiusanico, Torria, Chiusa Vecchia, Pornasso, Pieve di Teco, Villatalla, Lucinasco, Diano Arentino e Moltedo. Ad essere maggiormente colpite sono le coltivazioni di olivi e di viti. La grandine ha causato perdite stimate in oltre il 70% del raccolto. Lo segnala la CIA di Imperia, Confederazione Italiana degli Agricoltori, che ritiene ci siano le condizioni per il riconoscimento da parte della Regione e del Ministero delle Politiche Agricole della calamità nazionale in modo da attivare le procedure di ristoro previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale. La CIA chiede pertanto agli uffici regionali di avviare sollecitamente le procedure previste dalla legge e delimitare il territorio interessato quanto prima, al fine di ottenere anche deroghe e benefici di legge. E adesso 20 miglia perché nonostante non sia stata ancora risolta la questione del suo posizionamento non autorizzato, l'info point di Croce Rossa Italiana e Monegasca ha già iniziato a operare nella zona della stazione ferroviaria e ne parliamo in un altro servizio sentendo i responsabili di questo point. Ci troviamo qua perché è stato aperto questo info point grazie alla Croce Rossa Monegasca. La Croce Rossa Monegasca in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Si sono piazzati sullo spazio antistante alla stazione ferroviaria per dare accoglienza a tutti coloro che arrivando in questa città ed in particolar modo in questi ultimi mesi ne sono arrivati tantissimi e mi riferisco alla situazione migranti per poter dare ad ognuno una giusta indicazione ed una corretta informazione. È difficile incontrare questi migranti che arrivano qua e poi però è difficile convincerli magari ad andare al Parco Roia o siete riusciti a portarne dei numeri già? Ma diciamo che da notizie avute direttamente e visto anche personalmente dalla Croce Rossa Monegasca alcuni migranti si sono avvicinati, hanno chiesto delucidazioni, informazioni ed hanno accettato di buon grado tramite il pulmino messo a disposizione appunto ripeto dalla Croce Rossa di Monaco di recarsi presso il Parco Roia. Come viene svolto questo servizio qui alla stazione? Il servizio viene svolto da un constato che abbiamo fatto da due anni che aiutiamo la Croce Rossa italiana che la gente che arriva a Ventimiglia arriva quasi tutti con il treno e da quando l'aiuto è a Camporoia ci sono parecchie gente che danno delle informazioni che sono false per diciamo abusire dei migranti, quindi l'info point che non è solo un info point di Croce Rossa lo vogliamo aprire a tutte le associazioni che vogliono aiutare i migranti qua a Ventimiglia vuole dare delle informazioni giuste e vere, che tipo di aiuto possono ricevere a Ventimiglia anche su quali sono i pericoli che possono incontrare perché ci sono stati parecchi morti sul treno, sull'autostrada anche sulla montagna attraversando e c'è anche dell'informazione sulle regole di vita in Italia e in Europa la pulizia, come salutare le cose così. Quell'informazione che non è stampato, Croce Rosso l'abbiamo fatto in quattro lingue arabo, inglese, francese, italiano e stiamo per vedere a farlo in altre lingue Sono tanti questi migranti che vengono qua all'info point? Quindi l'info point è aperto proprio ufficialmente da ieri mattina e i primi che abbiamo portato era una mamma con il bambino di tre anni, quindi tutto un simbolo adesso da due giorni sono già 20 o 30 persone che sono state trasportate, soprattutto quelli che arrivano con gli ultimi treni di notte, li possiamo portare la mattina alle 8 e dopo nel pomeriggio c'è più o meno gente Quell'info point serve anche per la popolazione che abita a Ventimiglia, quelli che prendono il treno ogni giorno per dire ok, noi associazione vogliamo aiutare i migranti e anche quelli che vivono a Ventimiglia per informare dove i migranti possono avere aiuto gratuito per tutti Adesso una breve pausa per noi, poi altre notizie e servizi fra poco La mattina a partire dalle 9.30 al santuario della Madonna della Guardia di Genova I sindaci di Genova, Savona e La Spezia, il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Bruzzone apriranno i lavori degli stati generali e degli amministratori liguri del centro-destra La giornata si snoderà a lungo temi, fra cui finanza pubblica, sanità, difesa del suolo, protezione civile e turismo Saranno presenti gli amministratori del centro-destra di Genova, Savona e La Spezia ma anche il presidente dell'autorità portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini il commissario dell'azienda sanitaria Lisa, Walter Locatelli e Giancarlo Giorgetti, deputato della Lega Nord L'intervento conclusivo spetterà il presidente della regione Giovanni Toti ed è previsto intorno alle 18 di domani Il red carpet della regione ieri sera è arrivato anche a Riva Ligure, Santo Stefano al mare a tagliare il nastro della passarella rossa è stato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino alla presenza naturalmente dei sindaci, degli amministratori dei due comuni, vediamo Oggi siamo qua a inaugurare questo red carpet tra Riva e Santo Stefano uno dei più lunghi della Liguria sicuramente, unisce due paesi storicamente turistici, unisce due borghi sul mare bellissimi che rappresentano un po' l'unità dei nostri territori come vuole rappresentare il red carpet il red carpet non è un'opera pubblica, non è un'infrastruttura, è solo un modo per promozionare la nostra bellissima Liguria e tutti i borghi che si affacciano sul mare o che stanno nell'entrotella della nostra bella Liguria il red carpet significa che la Liguria e i sindaci che lo hanno ospitato come tutti i sindaci della nostra Liguria vedono nel turista un VIP, una persona importante che ha scelto di venire a passare le vacanze sul nostro territorio il set cinematografico e la scenografia sono i bellissimi posti della nostra Liguria e la storia di questo film che i turisti girano è la loro vacanza con la speranza che una volta tornati a casa portino appunto il ricordo della Liguria come quello di un bel film con gioia che abbiamo approfittato di questa ottima proposta della regione per aumentare l'attrattività dei nostri borghi marinari che quest'anno hanno un ulteriore elemento per far considerare i propri ospiti i propri graditi ospiti e i propri residenti persone veramente importanti perché questo fa crescere anche l'autostima per tutti quelli che vivono parte dell'anno o tutto l'anno questi bellissimi borghi marinari potremmo dire un'estate col botti, fuochi d'artificio hanno fatto da cornice a questa inaugurazione siamo molto contenti di poter ospitare il red carpet ma siamo soprattutto contenti dell'attenzione che l'amministrazione regionale ha avuto per i territori di Riva Liguria e Santo Stefano al mare è un obiettivo quello che è sempre fissato alla regione ovvero di rendere come delle stare i nostri turisti che condividiamo, crediamo che l'accoglienza e l'ospitalità debbano essere principi fondamentali per le località che si affacciano sul mare quali sono le nostre dobbiamo fare in modo di fare sistema e questo è un buon esempio e un buon punto di partenza certamente c'è ancora tanto da lavorare ma bisogna anche essere onesti nel dire quando arrivano dei risultati che i risultati iniziano ad arrivare e questa sera abbiamo dimostrato che l'unione fa davvero la forza e mi auguro che sia l'inizio di una proficua collaborazione soprattutto perché abbiamo deciso questo punto per inaugurare il red carpet perché prossimamente la regione Liguria ha anche finanziato questo tratto per una nuova passeggiata a mare che completterà il collegamento tra Riva Liguria e Santo Stefano quindi anche un doppio annuncio quello che facciamo ovvero che finalmente Riva Liguria e Santo Stefano saranno uniti definitivamente da una passeggiata a mare grazie a un sostanzioso contributo regionale quindi oltre ad unire la festa questa sera usiamo anche una cosa pratica ovvero una passeggiata da tanto tempo attesa e da tanto tempo invocata da tutti è sempre a proposito di red carpet però non mancano anche delle polemiche legate a questa iniziativa promozionale della regione a sollevarle sono stati i consiglieri regionali del PD e ora viene coinvolta anche la soprintendenza per i beni culturali sentiamo il perché in un altro servizio il red carpet è inventato dalla giunta Toti per promuovere con bassi costi le più belle località turistiche della Liguria si dimostra apprezzato dai sindaci e dai turisti ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda i consiglieri regionali del PD che contestano l'iniziativa e accusano la regione di deturpare angoli storici posti sotto tutela la denuncia pubblica del PD è giunta fino agli uffici della soprintendenza dei beni culturali Liguri che ora si è attivata per capire se il posizionamento dei red carpet avvenga rispettando le regole previste per il patrimonio storico e architettonico risulta infatti che né regione né comuni abbiano chiesto autorizzazione alla soprintendenza per il posizionamento dei tappeti rossi ma non è nemmeno chiaro se tali autorizzazioni siano effettivamente necessarie per legge la soprintendenza in ogni caso ha annunciato di voler fornire precise indicazioni per la tutela dei beni artistici relativamente al posizionamento dei tappeti per il presidente Giovanni Toti si tratta di un'iniziativa promozionale formidabile dal basso costo e il PD dimostra semplicemente di essere infastidito dalla centralità che la Liguria ha saputo riacquistare sul fronte turistico in questi giorni a Gerusalemme e Cisgiordania nella striscia di Gaza almeno tre giovani palestinesi sono stati uccisi oltre mille feriti durante scontri e manifestazioni contro la volontà israeliana di stabilire una presenza nel terzo luogo sacro dell'Islam e proprio contro questa situazione di tensione è stata organizzata a Imperio una manifestazione in programma domani alle 15.30 si terrà un presidio in piazza di Amicis a seguire un corteo per le vie di Oneglia e adesso ci spostiamo al casino di Sanremo perché entro pochi giorni vi saranno installate altre 98 slot machine posizionate ieri invece la Bemoth alta più di 3 metri attualmente le slot in funzione nella casa di gioco saremese sono 480 vediamo 98 nuove slot insomma si arricchisce il parco delle slot machine al casino di Sanremo restare al passo della nuova tecnologia è uno degli obiettivi del casino di Sanremo quindi molto bene ha fatto la squadra Casinò e qua ringrazio il direttore generale che ha saputo coordinare gli acquisti e rendere appetibile e attrattivo il nostro casino anche per tutte queste nuove tecnologie qua dietro abbiamo un'espressione di questa nuova tecnologia che devo dire è particolarmente bella e anche in voglia al gioco un settore questo che ha molta concorrenza anche al di fuori della casa da gioco purtroppo è vero noi cerchiamo sempre di far comprendere ai nostri giocatori che qua ci si deve divertire ma non deve diventare una patologia perché anche lo stato centrale si è reso conto che la patologia, la ludopatia e il gap sono diventati un problema sociale per il nostro territorio e allora all'interno della casa da gioco noi abbiamo un controllo costante e molto 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 attento su questo tipo di patologie ecco cerchiamo di arginarle proprio al minimo e addirittura di evitarle e di allontanare le persone che ci sembrano che non siano più consone a quello che possa essere il divertimento, l'intrattenimento e il gioco noi vogliamo ancora che le persone al casino di Sanremo si divertano e passino una bella serata Quali sono le caratteristiche di questa nuova macchina appena installata? Allora questa macchina che si chiama Behemoth è una macchina del produttore dell'azienda Aristocrat che è una macchina in questo momento forse la macchina più grande, la macchina più spaziosa disponibile nel mercato delle slot, è una tecnologia recentissima insieme al dottor Marco Calvi abbiamo il responsabile dell'area delle giochi elettromeccanici anche dell'online del casino di Sanremo abbiamo deciso di portare questa tecnologia al casino di Sanremo Le slot machine sono le regine degli incassi? Insomma le slot contano per una parte importante dell'incasso della casa da gioco per questo l'azienda continua sempre a investire in modo tale di mantenerci sempre all'avanguardia nel settore sicuramente a livello nazionale ma anche a livello europeo siamo una casa da gioco con un parco macchine e con tecnologie molto avanzate Come sono andate le vincite dall'inizio dell'anno? Il casino insomma porta bene? Sì, vincite superiori ai 990 euro ci sono state la somma di 15 milioni quindi vuol dire che il casino di Sanremo oltre a divertirsi si vince anche questa è una delle prorogative del gioco e della bellezza di giocare alle slot e poi devo dire che c'è anche la possibilità di intrattenersi appunto con queste nuove tecnologie quindi sì, venite a giocare perché si vince La particolarità di queste nuove slot machine? La particolarità di queste nuove slot machine è quella di riuscire a fornire un intrattenimento di altissimo livello quindi la possibilità di passare del tempo sulla macchina giocando con la possibilità di vincere, di vincere anche cifre consistenti il parco macchine è molto molto diversificato per cui ci sono macchine sia per chi ama appunto l'intrattenimento quindi passare molto tempo alla macchina con possibilità di vincite diciamo più contenute ossia chi ama invece un gioco un po' più forte e quindi la possibilità di grosse vincite partendo da importi anche molto bassi noi abbiamo macchine che partono da un centesimo di credito fino ad arrivare a 2,50 euro e adesso torniamo a Riva Ligure perché proseguono gli eventi serali estivi organizzati dall'assessorato alle manifestazioni del Comune di Riva in collaborazione con Fiori Eventi ieri sera è stata la volta della Notte Bianca dei Bambini vediamo siamo qui questa sera con la Notte Bianca dei Bambini l'evento di punta dei nostri mercoledì bimbi dedicati appunto alle famiglie e ai relativi bambini è un'estate molto ricca di eventi, molto importante siamo contenti per il grande afflusso turistico che stiamo avendo in questa stagione ci auguriamo che vada avanti così è il quarto anno che collaboriamo con la Fiori Eventi con un grande riscontro di pubblico e anche un successo con queste manifestazioni quindi nel futuro ci auguriamo che sia sempre più rosio buonasera a tutti questa sera la Fiori Eventi tocca la tappa di Riva Ligure sono quattro anni che collaboriamo con l'amministrazione in carica mi preme ringraziarla per la fiducia che ci ha sempre accordato e quest'anno ancora di più questa sera è la serata clou degli eventi della Fiori Eventi a Riva Ligure e viva Riva su tutto il lungomare ci sono giochi, attrazioni gonfiabili, spettacoli questa secondo me è la serata clou per i bambini a Riva Ligure grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con il Comune e soprattutto con l'assessor Benza che oltre ad amministrare bene sa anche ascoltare grazie a tutti, buona serata e buon divertimento ricordo per tutti coloro che vorranno venirci a trovare a Riva Ligure che questo fine settimana avremo un importante street food all'interno del quale ci saranno diversi spettacoli di intrattenimento ma il sabato 29 avremo il giorno culmine con i fuochi artificiali all'interno di questa serata a costo zero per il Comune e quindi un grande successo grazie La notizia sportiva da Imperia la rinantes Imperia sempre più orgogliosa di Giulia Cuzzuppé dopo una stagione ad alti livelli le geste della Mancina continuano a passare sotto le lente di ingrandimento dello staff della Nazionale Italiana e per Giulia è già tempo di rimettersi al lavoro è stata convocata per il collegiale di Ostia dal 31 luglio al 7 agosto il gruppo di atlete nato dopo il 97 si trasferirà poi nei dieci giorni successivi a Santa Maria Capoavetere l'obiettivo è Volos in Grecia dove si terranno i mondiali di categoria dal 3 al 9 settembre prossimi E adesso in provincia di Cuneo dove scatta un progetto pirota per ridurre le liste di attesa per esami diagnostici negli ambulatori dell'Asle lo ha annunciato l'assessorato regionale alla Sanità del Piemonte sentiamo Un progetto sperimentale che coinvolgerà i medici neo specializzati per lo smaltimento delle liste d'attesa è uno degli obiettivi regionali annunciati per il 2017 dall'assessorato regionale alla Sanità e su proposta dell'Università di Torino per consentire di abbattere le liste d'attesa con una forza lavoro giovane impiegata sia per prestazioni ambulatoriali sia per esami diagnostici un progetto ipotetico ma del quale si è tornato a parlare nei giorni scorsi perché una prima sperimentazione potrebbe partire proprio dalla provincia di Cuneo Noi doniamo come fondazione molti macchinari il nostro crucio è che questi macchinari secondo noi potrebbero essere meglio utilizzati soprattutto come numero di orario di apertura di fruizione al pubblico un progetto che partirà subito dopo l'estate per cui pensiamo nell'autunno che coinvolgerà sia la SL1 sia tutti gli ospedali la SL2 e l'azienda ospedaliera porrà in condizione di aumentare le ore di fruizione dei grandi macchinari possibilmente anche l'apertura al pubblico al sabato mattina perché la possibilità di essere disponibili alla fruizione dei macchinari in un orario più ampio agevola certamente i cittadini che hanno bisogno di cura C'è un tavolo di lavoro con cui stanno lavorando noi della Cuneo 1 con il direttore generale della Cuneo 2 il dottor Buono con il dottor Bedoni del Santa Croce e soprattutto le tre direzioni sanitarie coordinate da dottoressa Chiozza stanno lavorando al progetto e ai programmi di riduzione di stessa attesa almeno per quanto riguarda le 42 prestazioni e visite critiche evidenzate dalla Regione anche la fondazione ci metterà del suo quel progetto di cui si è parlato per cui sono disposti a finanziare la possibilità di ampliare gli orari di apertura soprattutto per alcune prestazioni TAC, risonanze eccetera eccetera sicuramente andrà aiuterà anche a ridurre appunto il punto di vista d'attesa e un grazie agli amici di Telegram e adesso Riviera 20 poi l'autostrada dei Fiori quindi il quadrometeo fra poco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. La strada dei fiori fa sapere che nei giorni compresi tra il 24 luglio e il 28 luglio alle ore 14 non è prevista la posa di cantieri che potrebbero causare turbativa al traffico. A partire dalle 14 del 28 luglio e fino alle 24 del 10 settembre, lungo la tratta Savona-Confine di Stato, sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate, salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza. E adesso il quadrometeo, così come comunicato da Arpal Meteo Liguria. Domani, venerdì 28 luglio, cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti nel centro Levante dove non mancheranno deboli piogge sparse, più probabili al mattino. Umidità a valori medio-alti, venti deboli o moderati da nord-est a Ponente e da sud-est a Levante. Mare mosso localmente mosso a Levante. Dopodomani, sabato 29 luglio, altra giornata all'insegna della variabilità con soli e nubi che si alterneranno, ma saranno queste ultime a prevalere, soprattutto nel pomeriggio, quando ci sarà anche qualche rovescio temporale moderato, più probabile sui versanti padani della regione. Umidità su valori alti, venti deboli orientali di direzione variabile, locali rinforzi al mattino, mare mosso in calo fino a poco mosso. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie a tutti voi per il vostro cortese ascolto e come sempre a tutti voi l'augurio di trascorrere una buona serata. E arrivederci a presto da Andrea Pomati e dallo staff di Imperia TV. Grazie a tutti.